Il meeting è sempre una grande opportunità non solo di riflettere tra esperti, ma anche di raggiungere tante persone che si fanno domande di fondo sul sistema economico, sociale, politico, sul futuro. Quest'anno il meeting avrà una declinazione diversa, ma la scelta del titolo è una scelta che ci deve far riflettere. Sì, abbiamo bisogno di riscoprire la meraviglia di poter cambiare, di poter cambiare anche rapidamente come abbiamo cambiato a causa del virus e di poter cambiare in meglio. E questo destra sì meraviglia, paura in alcuni, cambiamenti in altri, ma è quello di cui abbiamo bisogno perché oggi abbiamo capito che il nostro sviluppo è insostenibile da tanti punti di vista, ma che possiamo cambiarlo, spetta a noi. Ecco, sarà protagonista di diversi incontri. Che cosa ci parlerà durante la settimana del meeting? Parleremo di come è possibile cambiare comportamenti politiche per realizzare l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Quest'anno il meeting è veramente imbevuto di questo sforzo comune a tutto il mondo, perché mancano solo dieci anni, abbiamo solo dieci anni a disposizione per conseguire quei risultati e purtroppo la pandemia ci allontana dal sentiero già molto irto di difficoltà verso l'agenda 2030. L'Europa può diventare il motore di questo cambiamento, ma abbiamo bisogno che politici, imprenditori, opinion maker e persone qualunque le cosiddette cambino per cambiare in meglio il nostro mondo.